Il dolcissimo miele Il dolcissimo miele è sempre una delle sostanze più sane, nutrienti e profumate di cui possa alimentarsi l'uomo e che può procurarsi con ben poca fatica grazie alle solerti api operaie. Un purissimo prodotto nazionale, distillato dalla flora di nostra terra, vitaminico, facilmente digeribile ed energetico per l'alta percentuale di glucosio che contiene, meritevole perciò di tutte le preferenze dei consumatori. Grazie a tutti!